Il 1 settembre la Nazionale Italiana Gezzisti per le terre del sisma. Torna un appuntamento molto importante, non sarà solo la musica, infatti a sostenere le terre colpite dal sisma, ma anche il calcio con una partita di beneficenza. Sabato 1 settembre alle 12, nello Stadio Granzasso l'Italia dell'Aquila, la Nazionale Italiana Gezzisti affronterà la squadra Amici Amatrice Aquila, composta da istituzioni aquilane e amatriciane, personaggi della cultura e dello spettacolo, uniti in campo per la solidarietà. Lo sport, l'alte e la cultura sono straordinari strumenti per stimolare ed elevare i cuori e le menti delle persone, ha detto il Sindaco Biondi. La partita di beneficenza che si svolgerà all'Aquila nell'ambito della manifestazione Il Gezz Italiano per le terre del sisma è uno degli esempi di come il divertimento e lo svago di quei giorni saranno profondamente legati alla solidarietà. Per la Nazionale Gezzisti scenderanno in campo tra gli altri Paolo Freso, Reinaldo Santiago, Pigi Siciliani, Max Paella, mentre la Amici Amatrice Aquila schiererà l'attore Attilio Fontana e il conduttore di Radio Raimax De Tomassi, originario di Amatrice, lo scultore Davide Dormino, Massimo Pirozzi, a dare il calcio d'inizio al Sindaco dell'Aquila a Biondi. Il ricavato andrà a finanziare i borse di studio per due giovani musicisti, uno aquilano e l'altro amatriciano.